Cosa abbiamo qui? E' meglio che tu non lo sappia La aggiorno io, dottoressa Torres Allora, Randy Shouse, 23 anni, politrauma, si è spiaccicato contro un muro Ma... Questo idiota e i suoi amici idioti hanno costruito una fionda umana Non dovevo sbattere contro il muro, dovevo volare sopra la casa e atterrare nella piscina Ma perché l'avete fatto? Per poterlo filmare, mandarlo in internet e far vedere al mondo quanto stupidi sono tutti quanti Dai! Hai ripreso? Sì, a posto Sì Perché? Perché è divertente, ecco perché Ok, Randy, deve essere stata una bella fionda perché hai tutte e due le anche dislocate Ora faremo le radiografie Ci penso io Però, è finfante Meglio che stupida e votata alla morte Stai tanto